Ad agosto 2022 la nostra memoria talvolta breve ci impedisce di ricordare come avevamo trascorso l'estate 2021 con le vaccinazioni anti-covid per i ragazzi dei 12 anni iniziate da poco e l'avvio di un anno scolastico con l'obbligo di mascherine in classe. Dalla struttura commissariale alle scuole per tutto lo scorso anno sono state fornite queste mascherine chirurgiche da subito al centro di numerose polemiche. A Borgorico il dirigente dell'istituto comprensivo non ha mai obbligato studenti e docenti a ritirarle con il risultato che si sono accumulate confezioni e confezioni di mascherine che occupano spazio che a ridosso di settembre adesso serve. Per questo con un lavoro certosino di differenziazione nei magazzini le mascherine sono finite in sacchi pronti per essere smaltiti portati dai collaboratori scolastici nei cassonetti davanti alla scuola. I sacchi 15 sono stati notati da un cittadino che ha avvisato il comune che altro non ha fatto che riconsegnarle alla scuola per il corretto smaltimento. Raggiunto al telefono il dirigente scolastico che nei prossimi giorni incontrerà l'amministrazione comunale per dare conto di quanto accaduto spiega io sono qui per i ragazzi sono loro il mio primo obiettivo queste mascherine non le voleva nessuno la nostra scuola era invasa e non ho avuto alternativa.